Non solo la musica ma la cultura napoletana in generale sarà al centro della rassegna che a partire da questa settimana andrà in scena presso il teatro Trianon. Sei concerti da giovedì prossimo fino alla fine del mese per rilanciare la canzone napoletana affiancando elementi di innovazione alle sonorità tradizionali. Prosegue dunque con la rassegna Il Maggio al Trianon la mission dello storico teatro popolare partenopeo inaugurato nel 1911 da Edoardo Scarpetta con Miserie e Nobiltà. Dopo la rassegna inaugurata a febbraio e chiusasi ad aprile con il concerto di Daniele Sepe toccherà ai Capone Bungt Bangt riaprire le porte del teatro del popolo. Con il più celebre gruppo italiano di percussionisti a impatto zero che utilizza come strumenti musicali i materiali di recupero si esibirà anche il rapper Luca Riello. Sarà la volta quindi di Antonella D'Agostino, Mario Maglione e Mirna Doris. Con la rappazza il Trianon si aprirà poi a una delle nuove espressioni della canzone napoletana. Artisti storici ed emergenti si esibiranno sotto la guida al mixer di Gianni Simioli. La chiusura è affidata infine a un gruppo di prestigio come la nuova compagnia di canto popolare con il suo repertorio classico alternato ai successi più recenti. Durante la rassegna sarà possibile visitare all'interno del teatro la mostra dedicata alla storia di Torna a Surriento. 200 documenti d'archivio che testimoniano il successo del brano e le sue reinterpretazioni negli anni. Da Surrender di Elvis Presley alla versione portata all'ultimo Sanremo da Noa e Eugenio Finardi.